Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dei bandi di edilizia sovvenzionata per tutti i comuni di competenza dell'Ater Trieste. Sono state ammesse 3.116 domande, l'88% di quelle prevenute. E il presidente dell'Ater Riccardo Novacco, a un anno dal suo insediamento, traccia un bilancio dell'attività e le linee di priorità per i prossimi mesi. A cominciare dal nodo degli alloggi sfitti, forse il problema più urgente sul quale ha lavorato il nuovo Consiglio d'amministrazione fin dall'inizio del mandato. L'argomento sfitti di Ater Trieste è un argomento assolutamente importantissimo. Abbiamo ricevuto un input da parte della regione un anno fa di incidere in maniera prepotente direi su questo tema incredibile. Abbiamo trovato 2.000 alloggi sfitti nella nostra Trieste, un numero assolutamente importante che ci ha messo nella condizione di lavorare subito. Prosegue, grazie all'accordo col Comune, la rimozione e le sanzioni dei tanti mezzi a due e quattro ruote abbandonati, tra le aree più critiche i parcheggi delle case dei Puffi e di Valmaura, ma si proseguirà nel controllo di tutte le aree di pertinenza degli edifici Ater. Potenziata anche l'attività delle micro aree, punti di riferimento fondamentali sul territorio. Ater Trieste dedica annualmente al progetto Habitat Micro Aree qualcosa come 120.000 euro e 6 dipendenti, un lavoro costante e quotidiano, 14 portereate a Trieste, 2 a Muggia, ognuno composto da una popolazione che si aggira tra i 500 e i 700 abitanti. I prossimi alloggi che saranno consegnati tra qualche settimana sono stati realizzati in via Cesare dell'Acqua all'insegna dell'innovazione, palazzine pluripiano con struttura portante interamente in legno, mai realizzate prima a Trieste in regione. La struttura che andremo ad inaugurare probabilmente nel mese di ottobre. Siamo in un contesto veramente incredibile, bellissimo. Sono 50 alloggi molto innovativi, una costruzione che ci vedrà sicuramente protagonisti con le case del futuro, almeno questo sicuramente è l'inizio di un percorso che Ater Trieste vuole fare spuntando all'innovazione e questo ne è un chiaro esempio.